Abbiamo passato un'annata un po' complicata, è chiaro che c'è grande voglia di valsa, siamo qui di dirlo proprio per trovarci bene a questa nuova annata e non ripeterebbe che non è stato difficile trovare un accordo, personalmente da quelli che volete sono molto contento. Ci dicono che sei in ritiro anche tranquillo e sereno perché riesci a riposare la notte visto che sei da pochissimo papà e sono uno stimolo di più anche quello per far bene e per sposare il progetto Terra. Si, si, sto riposando finalmente, però è piacevole pure non riposare perché è una bellissima cosa e si, sto qua per lavorare, è proprio bene. Ma non so, abbiamo fatto per molto poco, stamattina abbiamo fatto di test, siamo una persona competente, ci ha un po' parlato, ci hanno illustrato le sue idee, ha fatto un'ottima impressione. Ma secondo me veniamo comunque dall'annata un po' così come ti dicevo, quindi certe volte le migliori annate nascono proprio da quando c'hai obiettivati. Chiaramente dobbiamo salvarci e poi insomma vedere partita per partita da varia. Dobbiamo essere comunque bravi noi a far integrare subito i giovani, fargli capire l'importanza comunque di questo campionato. e di Dio servirebbe a questo per comunque fare gruppo e appunto aiutare i più giovani e ragazzi bene per le qualità soltanto per fare esempio.